Siamo felicissimi, grazie a tutti, grazie a tutti, siete stati tutti bravissimi, siamo una squadra veramente fortissima, siamo una squadra fortissima, devo fare la dichiarazione un ufficiale, mi lascerei stare, il doc dice che lascia stare, vabbè, insomma, sono veramente molto felice, sono effettuantissimo, il mio socio oggi mi ha preparato, mi sento di non mettermi a piacere, perché insomma, vedi che mi sto comportando bene, insomma, grazie a tutti voi di cuore, grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno votato, perché insomma i dati che arrivano sono veramente, sono molto positivi, quindi io sono, sento veramente insomma, sento tutto il calore che sta intorno a noi, sono molto onorato di questa cosa, sono molto onorato di questo compito che i cittadini hanno deciso di darci, di darmi e di darci ovviamente, sento ovviamente la responsabilità, tutta la responsabilità di questa importante disegnazione, perché noi lo sappiamo, i cittadini da noi aspettano tantissimo e quindi da domani bisognerà mettersi a lavorare, perché questo è veramente ciò che si aspetta dei cittadini, ha voluto, diciamo, hanno capito che Mondovì deve svoltare, doveva svoltare, hanno scelto, hanno optato per il cambiamento e quindi da domani inizierà una nuova stagione per Mondovì, poi insomma, dirò la cosa che dicono tutti i sindaci appena eletti, ma insomma è vero, insomma, ovviamente da domani si lavora per Mondovì, per cui sarò il sindaco di tutti i moregalesi, quindi ringrazio anche, diciamo, i miei avversari, perché anche da loro ho imparato qualcosa, ogni tanto mi ha fatto un po' arrabbiare, ma insomma ho tratto dei, insomma, dei disputi, di riflessione anche dalle loro osservazioni. E ringrazio anche mia moglie, la mia moglie, i miei bimbi, perché comunque non mi hanno, non mi hanno più visto. Mi hanno visto poco e soprattutto per quel poco che mi hanno visto mi hanno sopportato, ma sono stati veramente bravissimi tutti. E insomma, faccio ancora i complimenti a tutti voi perché siamo veramente una grande squadra, ci avete messo la faccia, il cuore, io sono molto molto orgoglioso di voi e quindi, insomma, questa è una vittoria ovviamente di tutti, quindi insomma, grazie a tutti.